In dirittura ad arrivo l'apertura del nuovo supermercato Coop in via Targetti. Entro febbraio è prevista l'inaugurazione della struttura, che è stata concepita, come spiegano da Unicop, secondo un modello di spesa friendly, con scaffali ad altezza uomo, per facilitare i clienti e anche gli addetti al rifornimento. Per il nuovo supermercato è previsto un organico di 36 persone, di cui 27 verranno stabilizzate tra il personale precario. Le altre saranno invece trasferite da altri supermercati. L'apertura di via Targetti non avrà conseguenze sugli altri negozi Coop della zona nord. Restano aperti infatti i punti vendita di via Bologna e quella di via Strozi, con una funzione di prossimità. Il nuovo store invece nasce con una concezione di spesa moderna, con anche servizi innovativi. I lavori avrebbero dovuto terminare entro novembre 2019, ma sono sorte alcune complicazioni che hanno fatto posticipare la data di inaugurazione. L'apertura della nuova Coop di via Targetti è attesa da anni, da quando PAMA ha chiuso i battenti, privando la zona di un supermercato di medie dimensioni. Nel frattempo è stato aperto il supermercato Coop in via Valentini e S. Lunga ha inaugurato la nuova sede in via Le Galilei.